L'attesa è finita, il girone I di Serie D al via da domenica con tutte le partite in programma alle ore 15. Per la San Cataldese un incontro ampiamente alla portata. Al Mazzola arriva il Sant'Agata, squadra che punta alla salvezza, ma da non sottovalutare. Per l'undici di Matteo Vullo la concreta opportunità di brindare ai primi tre punti della stagione in un campionato tra i più prestigiosi degli ultimi anni. Parla Claudio Calafiore, centrocampista del Sant'Agata, sulla pagina Facebook del club messinese. Potremmo incontrare la San Cataldese che credo lotti per il nostro stesso obiettivo, cioè la salvezza. Sappiamo di incontrare una squadra molto ostica, composta da gente di esperienza, gente forte per questa categoria. Quindi, ripeto, la prepareremo al meglio. La partita di cartello è comunque quella di Ragusa, dove la squadra di casa dovrà vedersela con la corazzata Catania. Gara senza storia sulla carta, con gli Etnei lanciati verso il primo successo della stagione dopo la bruciante eliminazione della Coppa Italia ad opera della San Cataldese. Insidiosa trasferta del Canicattì sul campo della Mezzia, squadra attrezzata per stare nei quartieri più nobili della graduatoria. Le altre gare in programma, Acireale-Cittanova, Trapani-Mariglianese, Licata-Castrovillari, Santa Maria-Cilento-Locri, Realla-Versa-Paternò, San Luca-Vibonese.